Prologo Campo da San Giovanni, siamo sempre noi, quest'anno saremo alla decima edizione per quanto riguarda il Festival della Cipolla Rossa di Calabria, manifestazione ricordo sempre riconosciuto come Sagra di Qualità, la prima Sagra di Qualità della Regione Calabria, quest'anno saremo al decimo anno, un appuntamento importante, come ogni anno vi aspettiamo a Campo da San Giovanni il 13 di agosto per questa manifestazione, ormai diventata una data fissa, una manifestazione dove bisogna essere presenti. Nel corso della manifestazione potrete gustare tutti i piatti a base di Cipolla Rossa di Calabria, Cipolla Rossa di Campora, perché noi coltiviamo qui a Campora, tra Campora e Nocerea viene coltivata il 70-80% della Cipolla Rossa che la qualità è Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, la nostra manifestazione si svolge qui a Campora, quella sera degusterete tutti i prodotti a base della Cipolla che coltiveremo qui a Campora. Inoltre la serata sarà allietata da una band musicale, sarà un'orchestra spettacolo e tante altre cose che poi lo scoprirete venendo qua il 13 di agosto a Campora San Giovanni. La Prologo di Campora vi aspetta qui in Piazza San Francesco, sempre a Campora San Giovanni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.